Ogni tanto si dice di qualcosa che sembra un western, o di un posto che è un far west. Di solito sono termini che si associano ad un certo grado di violenza, alla mancanza di legge, a regolamenti di conti fatti a colpi di pistola, insomma ad una situazione che appartiene ad un altro mondo, lontana, selvaggia, pericolosa e in un certo senso anarchica. Che così è usato a sproposito perché in realtà anarchia vuol dire tante cose, magari non proprio queste, ma come luogo comune ci sta. Un far west, un western. Bene, allora, sono Carlo Lugarelli, racconto storie che a volte sono proprio così, selvagge, pericolose e anarchiche in tutti i sensi, e la storia di sante Pollastri, detto Pollastro, bandito e amico di un campione, è una di queste, una storia che sembra un western, degna del far west. All'inizio è una questione di sguardi. Sono quelli che si scambiano due uomini in un fumoso e tenebroso Tabarain, un locale notturno in una calda serata d'agosto del 1927 a Parigi. Uno è un uomo elegante, completo oscuro a tre pezzi, e papillon, giovane, bello, alto, capelli neri e carnagione olivastro. È appena entrato nel locale con una bellissima ragazza al braccio. Elegante, appunto, è sicuro, passa tra i tavoli salutando, è conosciuto, e i camerieri sanno anche che è molto generoso con le mance. Seduto ad un tavolino, un po' in ombra, c'è un altro uomo, meno giovane, meno elegante, tarchiato e calvo, che sta fumando un grosso sigaro. Per un momento i loro sguardi si incrociano, ma mentre quello del giovane elegante è solo un passaggio, casuale, e dura un attimo, quello dell'uomo tarchiato dura di più. Lo segue, preciso e insistente, osserva dove si siede e lo tiene d'occhio, nascosto dietro il fumo del sigaro. C'è la musica dell'orchestrina, ammiccante, suadente, ci sono le ballerine, che per allora sono molto svestite, c'è una bottiglia di champagne versata nei calici davanti a lui, sul tavolino. Ma l'uomo tarchiato non si interessa niente di tutto questo. Fissa, discretamente, ma con insistenza, il giovane elegante che si diverte, ride con la bellissima bionda, beve, tranquillo e sorridente. Poi, ad un certo punto della notte, il giovane si alza, saluta tutti, anche la bionda e se ne va. Allora, l'uomo tarchiato fa un cenno all'altro uomo che stava seduto al tavolino con lui, un colosso enorme, alto quasi due metri, atletico e muscoloso. Ha un soprannome, infatti. Lo chiamano Maciste. Maciste si alza e segue il giovane elegante, fuori dal Tabaren e per le strade di Parigi. Lo segue a distanza, perché uno come lui si fa notare. Ma anche perché il giovane, fuori, ha cambiato atteggiamento. Cammina veloce, fermandosi all'improvviso per guardarsi alle spalle. Oppure si blocca davanti ad una vetrina, per scrutare attentamente il riflesso del marciapiede dietro di lui. Sembra uno che abbia paura di essere seguito e che sappia bene come si fa ad evitarlo. Soprattutto, però, tiene una mano in tasca, stretta attorno a qualcosa, che, Maciste lo sa, il giovane sa benissimo come usare. Una pistola. Una Browning calibro 7,65. Maciste, una pistola non ce l'ha. In Italia ce l'avrebbe di sicuro e senza problemi, perché è un poliziotto. È un vicebrigadiere della pubblica sicurezza, ma in Francia no. In Francia è praticamente un cittadino come tutti gli altri. Così se ne resta nascosto nell'ombra a seguire il giovane, senza farsi vedere, perché il giovane saprà anche come guardarsi le spalle e come usare una pistola. Ma Maciste è bravo e sa come seguire una persona senza farsi vedere. Infatti, il giovane arriva davanti ad una palazzina, anonima, in periferia. Si guarda attorno per un'ultima volta, apre la porta ed entra. Il vicebrigadiere Giuseppe Carpi, detto Maciste, si segna l'indirizzo e torna subito indietro. Non vede l'ora di dirglielo al suo superiore, il commissario Giovanni Rizzo, l'uomo tarchiato che è rimasto ad aspettarlo al tavolino del tabarè. Ce l'hanno fatta, finalmente. Hanno scoperto il covo in cui si nasconde Sante Pollastri, detto Pollastro. Il bandito, il nemico pubblico numero uno. Nei film western, ma anche nel far west della realtà, il principale mezzo di locomozione è il cavallo. Legati davanti al salun da un doppio giro di briglia su una stanga, a schiumare a rotta di collo nella prateria, cavalcati a pelo dagli indiani, o attaccati ad una diligenza, quasi ad ogni scena c'è un cavallo. Nell'Italia degli anni venti, che in molte zone è ancora simile al far west, non ci sono i cavalli, ma ci sono le biciclette. La gente si sposta, va al lavoro, in vacanza, pedalando seduta su un sellino. Le biciclette si rubano, come nel west si rubavano i cavalli. Bene prezioso e fondamentale che fa la differenza, come nel film Ladri di biciclette, che racconta un'Italia che è tornata a far west nel secondo dopoguerra. I carabinieri pattugliano le campagne in bicicletta come gli sceriffi a cavallo, e con le biciclette ci si ammazza, quando si imboca una discesa troppo ripida, e tirare nelle bacchette dei freni non basta. O ci si accoppia, quando si finisce nel fosso in due, lui sulla sella e lei sulla canna, e poi da cosa nasce cosa, e poi dritti fino al matrimonio riparatore. Come dice Marco Ventura, nel suo bel libro Il campione e il bandito, che racconta la storia di Sante Pollastri, la bicicletta è il mezzo democratico, la macchina per eccellenza, l'anello di congiunzione tra il cavallo e l'aeroplano. Soprattutto però, con le biciclette si corre, o si sogna di correre, che è lo stesso. E quelli infatti sono gli anni eroici del ciclismo, con i campioni, infangati e impolverati, che sfrecciano sulle strade sterrate tra due ali di folla urlante. Anni eroici, perché fatti da eroi della velocità, ma soprattutto della fatica. Perché anche se le biciclette da un pezzo non sono più i velocipedi di una volta, con la ruotona gigante davanti, non sono certo quelle di oggi, tecnologiche e leggerissime. Senza cambio, con telai rigidi che pesavano 20 kg, gomme da mezzo chilo e camere d'aria di ricambio portate a tracolla dai gregari, che seguivano i campioni. Roba da eroi, appunto. L'eroe di quegli anni eroici, il campione di tutti i campioni, si chiama Costante Girardengo. Dal 1912, quando diventa professionista all'età di 19 anni, fino al 1936, quando si ritira, Girardengo vince tutto quello che può. Due giri d'Italia, sei Milano-Sanremo, i giri che si corrono in Italia e all'estero, per un totale di 131 corse su strada, le strade di una volta, e 965 su pista. In mezzo ci sono la Prima Guerra Mondiale da Belsaliere, la polmonite per l'epidemia di Spagnola, e un sacco di cadute, una delle quali gli rompe un polso. Ma il campionissimo, come lo chiamano, con la C maiuscola, è lui. Con la sua faccina da bambino, il ciuffo tirato indietro e il sorriso spavaldo. Le barzellette, le caricature di quegli eroi popolari, che sono i ciclisti, mostrano spesso un tizio stravolto dalla fatica, che saluta la mamma, contento di essere arrivato uno, ma lui no. Girardengo è diverso. Girardengo ha classe, ha carisma, ha tutto. Girardengo è un mito. Tra i tanti tifosi che ha, sparsi lungo le strade di tutta Italia, ce n'è uno, in particolare, il più sfegatato di tutti. Si conoscono fino da bambini, perché anche lui è di Novi Ligure, come Girardengo, quartiere Fraschetta. Si chiama Sante Decimo Pollastri. Si conoscevano fino da bambini, perché erano vicini di casa, poi si erano persi un po' di vista, ma Sante, il suo campionissimo, l'aveva sempre seguito. Per un po' aveva fatto il ciclista anche lui, professionista, ma anche se la grinta ce l'aveva, gli mancava il talento, e così aveva lasciato perdere. Era più bravo a fare altro, Sante Decimo Pollastri, detto Pollastro. Un altro mestiere, il bandito. Allora, Far West. Il 14 luglio del 1922 è un venerdì. C'è un uomo che sta pedalando con la sua bicicletta lungo la strada che da Tortona porta Novi Ligure. È il cassiere della Banca Agricola Italiana e nella sua bisaccia, come un pony express dei western, porta valori per 37.986 lire e 31 centesimi. Una bella somma. Mentre attraversa la frazione di San Bernardino gli piombano addosso quattro giovani in bicicletta, lo buttano a terra e uno cerca di strappargli la borsa con i soldi. Ma il cassiere è un ex maresciallo dei carabinieri, reagisce e uno dei giovani gli spara un colpo di pistola nella pancia, uccidendolo. È il battesimo del sangue per Sante Pollastri, il capo della banda dei rapinatori in bicicletta. Far West Il 25 novembre di quell'anno è un sabato sera i carabinieri accerchiano la casa della sorella di Sante a Novi Ligure sicuri di trovarci dentro lui e il cognato che fa parte della banda. E infatti ci sono ma cominciano subito a sparare. Saltano giù da una finestra e corrono via nella notte. Sante ha due pistole e spara con quelle finché non sparisce nel buio. Il cognato invece viene colpito dai carabinieri e muore. Quattro giorni dopo, 29 novembre mercoledì. Sante è con due dei suoi uomini in un'osteria a Teglia di Rivarolo davanti ad un piatto di pasta asciutta quando entrano tre carabinieri. Sono vestiti da operai ma Sante li riconosce. Uno in particolare il maresciallo Giovanni Lupano che comanda la stazione di Novi e che gli sta dando la caccia. Lo aveva quasi preso a casa della sorella quando hanno ucciso il cognato. Sante ha sempre in tasca la sua pistola una Browning automatica calibro 7,65. Comincia a sparare uccide il maresciallo Lupano con due colpi nel petto poi spacca una finestra lanciandogli contro una sedia e scappa. A terra resta il compagno ucciso dai carabinieri. Far West 28 giugno 1926 è una domenica sera. Sulla strada per Mede tra Alessandria e Pavia due carabinieri in servizio di pattuglia in bicicletta naturalmente vedono quattro uomini che si allontanano lungo la strada. Uno è rimasto indietro sembra stia orinando contro un albero ma è Sante che vuole osservare cosa fanno i carabinieri e quando si avvicinano troppo comincia a sparare uccidendoli tutti e due cinque colpi a uno sei a quell'altro. È imprendibile Sante come Jesse James o Billy the Kid e intanto continua a colpire fino a Milano poi scappa in Francia e colpisce anche lì rapine e furti nelle gioiellerie di cui buca le casse forti con una perforatrice perfezionata da lui stesso. Imprendibile quando sua madre si ammala Sante va a trovarla in ospedale vestito da frate minaccia un medico con la pistola e si fa portare in clinica come se fosse un sacerdote in visita ai malati imprendibile e intanto far west 13 novembre 1926 è un sabato di notte un orefice di Milano sente dei rumori giù di sotto in bottega scende con due pistole ma una è scarica e l'altra si inceppa i banditi invece sparano e lo uccidono 17 novembre mercoledì sono le 5 del pomeriggio in una osteria in via general Govone alla periferia di Milano ci sono tre poliziotti vestiti da operai il maresciallo di pubblica sicurezza Giuseppe Lacorte ha avuto una soffiata e infatti ecco Sante con uno dei suoi l'oste deve segnalarlo alla polizia appena entra ma fa il doppio gioco e in qualche modo segnala la presenza dei poliziotti a Sante fuori le pistole sparano tutti salta la luce nel buio restano a terra un poliziotto colpito alla testa e il maresciallo Lacorte colpito alla gola Sante scappa e sparisce nel nulla imprendibile quasi sempre nei western ad un certo punto arriva lo sceriffo che in questo caso è un commissario della questura di Milano un poliziotto tarchiato e calvo che si chiama Giovanni Rizzo da quando ha cominciato a compiere i primi reati a undici anni rubando le cassette delle lemosine della parrocchia e poi attraverso i furti le estorsioni e le rapine con tutti quei morti Sante ne ha fatta di carriera ha messo insieme una banda che nel corso del tempo è arrivata a contare centocinquante elementi tra Italia e Francia ed è diventato il nemico pubblico numero uno come veniva chiamato John Dillinger rapinatore e gangster negli Stati Uniti non solo in qualche modo c'è entrata anche la politica perché Sante non si dichiara precisamente mai una cosa o un'altra ma di sicuro di simpatie anarchiche per il luogo in cui è nato un quartiere popolare come la Fraschetta per le amicizie che frequenta e anche per gli elementi che ha nella sua banda Luigi Peotta alias il biondino alias lo zingaro alias il bimbo che diceva di essere in grado di centrare una moneta lanciata in aria e che prima di fare il bandito lavorava in una casa editrice anarchica oppure Renzo Novatore detto il poeta perché scrive poesie anche lui anarchico Caterina Piolatto che ispira molti dei colpi della banda anarchica anche lei una sfumatura politica che viene notata anche in Francia dove Sante viene chiamato il bonno italiano come Jules Bonno capo dell'omonima banda che agli inizi del secolo colpiva Parigi schizzando via sulle prime auto dell'epoca ma soprattutto si dichiarava decisamente anarchica ecco in un momento in cui tutto diventa politico perché siamo negli anni venti quando si afferma il regime fascista uno come Sante e una banda come la sua sono intollerabili tanto che Mussolini stesso mette sulla sua testa una taglia di 10.000 lire il commissario Rizzo è uno bravo che sa fare il suo mestiere come dice la canzone che Luigi Grechi scrive per Francesco De Gregori il bandito e il campione lo cerca a Parigi e siccome sa che a Sante piace fare la bella vita lo cerca nei ristoranti e nei locali soprattutto quelli frequentati dagli anarchici come quelli di Place de la République o quelli dei fuoriusciti antifascisti come il caffè Vallino potrebbe trovarlo anche in un altro posto al velodromo d'inverno lo stadio del ciclismo su pista di Parigi dove si tengono le sfide dei campioni e si battono i record e dove Sante va il 24 settembre del 1925 un giovedì è un'occasione che non può mancare perché quel giorno corre il suo vecchio amico Costante Girardengo e Sante oltre ad essere un bandito è proprio questo un ciclista un appassionato di corsi in bicicletta e un fan sfegatato del mitico Girardengo si incontrano sotto le tribune parlano a lungo e poi Sante come sempre se ne va e scompare 10 agosto 1927 mercoledì Sante esce dalla metropolitana a Place des Nations con una bellissima donna al fianco appena il tempo di accendersi un sigaro che quattro agenti ed il commissario Guillaume che dirige la polizia di Parigi gli saltano addosso l'hanno seguito da quando è uscito dal covo individuato da Rizzo e Maciste Sante cerca di prendere la pistola ma i francesi lo fracassano di botte e l'arrestano lo processano sia a Parigi che a Milano e lo condannano all'ergastolo da scontarsi in Italia al penitenziario dell'isola di Santo Stefano esce dopo 32 anni quando il presidente Gronchi gli dà la grazia e torna a Novi Ligure dove Sante il bandito morirà il 30 aprile del 1979 un lunedì Costante Girardengo il suo amico campione era morto un anno prima nel 79 il 9 febbraio un giovedì un anno prima un anno prima e un anno prima